Il copione di questo 25 aprile, del prossimo 25 aprile, è già scritto. Mancano alcune correzioni, quelle che arriveranno all'ultimo momento, ma la struttura del soggetto è praticamente chiara. Sarà l'anno in cui tutto quello che si è detto nell'ultimo periodo non vale più. L'hanno deciso gli stessi che da tempo provano a convincerci che fascismo e antifascismo siano categorie del passato ormai superate dalla storia. Loro, dopo aver scritto quintali di articoli, scritto centinaia di comunicati stampa in cui ci spiegavano che essere antifascista e celebrare il 25 aprile significasse incagliarsi in malinconici tempi che furono, ora quelli stessi ci dicono che il 25 aprile si dovrà scendere tutti in piazza, tutti ma proprio tutti con la bandiera dell'Ucraina per non destare il sospetto di essere filo Putin. E hanno inventato un nuovo modello di resistenza che li torna utilissimo semplicemente per sistemare alcune beghe interne. Un 25 aprile in cui gli annoiati dall'antifascismo scenderanno belli carichi in piazza per impartire lezioni di resistenza agli antifascisti è un finale del film dell'orrore che non avremmo mai nemmeno osato immaginare. E quindi che liberazione si festeggerà? Non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Sono belli pronti a utilizzare la resistenza come roncola per inneggiare alla liberazione ucraina. La stessa su cui da giorni dibattono seri preparati studiosi in un confronto tra l'altro civilissimo che non ha nulla a che vedere con le ciance scalmanate a cui siamo condannati da una classe politica e spesso anche giornalistica che riesce perfino a strumentalizzare la storia. La resistenza, quella nostra, fiaccata da un decennio di normalizzazione dei fascisti e di mostrificazione dei partigiani rimarrà sullo sfondo come semplice scenografia di un dibattito interno in cui ciò che conta è fingere di parteggiare Penzeleschi per rendere popolare l'amore per la guerra. Nonostante tra l'altro tutti i sondaggi dicano che gli italiani, la maggioranza degli italiani, la pensa esattamente all'opposto. Solo che gli italiani, ahi noi, non hanno un foglietto pagato con i contributi di Stato per poter dire la loro. A nessuno verrà in mente far notare quanto sia pericoloso leggere l'alto rappresentante UE per gli affari esteri, Powell, mentre dice di tornare da Kiev con la lista delle armi di cui c'è bisogno. Nessuno oserà far notare che, mentre l'Ucraina dovresamente si difende dalla criminale invasione di Putin, una soluzione militare del conflitto che questi tronfi chiamano vittoria sia praticamente irraggiungibile, a meno che non si entri ufficialmente in una terza guerra mondiale che qualcuno, tra l'altro, sogna probabilmente di festeggiare proprio il 25 aprile. A nessuno viene in mente che il presidente dell'Ucraina, Zelensky, messo all'angolo dal conflitto e dal senso di responsabilità del proprio ruolo, interpreti comunque un personaggio che è ben diverso dai modi e dai toni che l'Unione Europea si può permettere. Pochi sembrano essersi accorti che la Cina sta armando la Serbia con sei aerei carichi di missili e che la Serbia, nello scacchiene internazionale, sta tra le braccia di Putin. Così, il 25 aprile, che dovrebbe essere la liberazione dalla guerra, rischia di trasformarsi nel suo inno come se non avessimo imparato, dopo 77 anni, che la guerra non è bella anche se fa male e che tutte le energie dovrebbero essere concentrate nell'evitarla o farla smettere, sempre che in questi 15 giorni non succeda che ci finiamo dentro più di quello che già siamo, anche se ci riteniamo assolti perché tifiamo per la parte giusta.